Tu puoi promettere di fare altri 15 o 20 gol tipo quello dell'altra sera? Sicuramente ce la metterò tutta, penso che la frase di Pasquale sia quella che racchiude tutto cioè noi vi possiamo garantire che alla fine delle partite la nostra maglia sarà zuppa di sudore ci prenderemo questa responsabilità di veramente mettere tutto per voi perché lo meritate per la maglia perché la prima cosa deve essere questa Grazie a tutti Grazie, tante maglie giudate, arrivederci e buona serata a tutti